Grazie 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 Classe 1600 Terza piazza Per il numero 103 Luigi Molinetti Con tutto questo fango Tu domani ti fai il fatturato del 2024 Mamma quante macchine si lavano domani Secondo Classificato Il numero 99 Rocco Borcaro Che bella questa bimba che bella Che bella Vince simpaticamente e affettuosamente il terbi del territorio e delle scuderie Un altro pezzo Un altro pezzo da novanza del motorismo reggino Giovannino Puntolieri Grazie 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 di cuore Grazie a voi Noi ci siamo divertiti con voi E voi con noi speriamo anche Ciao 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 Ciao